Quanto a te, Pivello. Non sono ingenuo, lo so benissimo che stai ancora nascondendo i tuoi veri poteri. Che cosa aspetti a farmi vedere chi sei in realtà? Se vuoi metterla così, Giniu, va bene. Vorrà dire che ti mostrerò il mio vero potere. Ma bravo, ottima decisione. Non puoi mancare all'affetto dei tuoi cari senza giocare tutte le tue carte. Ti consiglio di guardare con attenzione sul tuo rilevatore, perché stai per assistere a qualcosa di assolutamente straordinario. Non mi serve proprio a niente, il rilevatore. So benissimo che il tuo livello non salirà mai al di sopra di 8000. Kaioken. Oh, genio! Novantamila! Ma come? Novantacinquemila! Centomila! Centocinquemila! Centoseimila! Centosettemila! Centottomila! Oh, non è possibile! Centonovimila! Centodiecimila! Non posso crederci! E sta ancora aumentando! Ma come fa? Che cosa? Centodiciassettemila! È assolutamente incredibile! Neppure il livello di genio supera centoventimila! Centoventimila? È salito a centotrentamila! Centoquarantamila! Com'è possibile? Sono sempre stato io l'essere più potente della galassia dopo Freezer! E' arrivato a centocinquantamila! E' arrivato a centocinquantamila! Cosa? Centottantamila! Ma è assurdo! Allora era questo il segreto che nascondeva! Adesso capisco perché non siamo riusciti a sconfiggerlo! Ma da quando i Saiyan sono così potenti, eh? E questo non è che un assaggio! Se soltanto volessi potrei scatenare molta più energia! Ve l'assicuro! Che cosa hai detto? No! 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 Com'è possibile? Ma chi sei tu?